Novena a San Rocco Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ottavo giorno O fedelissimo servo di Dio, che giunto alla patria vostra, estenuato dalle penitenze, e in abito di pellegrino, foste ritenuto da tutti come un esploratore dei nemici, e foste posto ingiustamente in carcere, ove penaste per cinque anni, conformandovi in tutto al Divino Volere. Vi supplichiamo umilmente di farvi per noi Mediatore in cielo, perché possiamo sempre col vostro esempio sopportare ogni affano ed ogni tribolazione, per amore di quel Dio che tutto dispone a sua gloria e a nostro bene. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. San Rocco prega per noi.